Qualcuno si ricorda degli Eterna Love? Quando ero piccolo ero in un canale che seguivo tantissimo Inutile dire che mi si è spezzato il cuore quando si sono lasciati E invece Luke4316, che fini ha fatto? Smitex, H-Met, Pisk, Eatfox, Mr. Paul Dockbar Ecco, ci sono tantissimi youtuber italiani che nel tempo sono semplicemente scomparsi Di alcuni abbiamo un ricordo piacevole, di altri magari no, ecco Vi prego, voglio tornare bambino per iniziare da capo questa serie di Pepo3393 Ma soprattutto...